Inaugurata lo scorso venerdì, spogliata di gran parte dei suoi elementi pochi giorni dopo. In mezzo una serie di interrogativi di chi transitava per Largo Madonna di Loreto e si è trovato di fronte a questa singolare installazione al centro della rotatoria. In molti hanno pensato si trattasse di un cantiere piuttosto che di una scultura. E invece è la cosiddetta stele flamine realizzata dall'artista Lomberto Pignotti con materiali quali tubi innocenti e teli che hanno interdetto molti cittadini sul fatto che appunto quella potesse essere una installazione artistica. L'arte però, si sa, è per sua natura spiazzante, divisiva e manipolabile dagli inconvenienti come ha spiegato l'assessore Daniele Vimini. Il progetto è un progetto affascinante, chiaramente diciamo un po' spiazzante nei materiali, tubi innocenti, vele, in realtà vogliono all'inizio o alla fine, per dove si vede, da Pesaro, da Roma e della famiglia, riportare alcune parole chiave di Pesaro, di Roma, ma anche del cosmo legate diciamo a un modo di vivere, una strada che ha duemila anni di storia. E qualcosa non ha funzionato dal punto di vista tecnico, la struttura di Pagli Innocenti è parte della scultura, ma il problema, da cui anche diciamo lo spaesamento, comprensibilmente di alcuni cittadini, è legato al fatto che le vele non hanno funzionato come si pensasse. Insomma, il tessuto forse è né troppo morbido né troppo rigido, quindi insomma invece che fluttuare al vento o rimanere più rigidi si sono accartocciate, possiamo dire, nei pali, è il motivo per cui oggi sono state smontate e verranno rimesse a brevissimo, in maniera più leggibile, quindi capiranno i tecnici e l'artista se con un materiale più rigido, diciamo meno soggetto alle variazioni del vento, oppure più morbido, che quindi possa senza, diciamo, intrecciarsi nei pali che fanno parte della struttura essere cose. Naturalmente ci scusiamo un po' per il disagio, in parte anche con l'artista che ovviamente ha disegnato l'opera ma meritava un'installazione tecnica che funzionasse, siamo convinti che una volta ripristinata a giorni farà comunque discutere, ma almeno lo farà nella forma che avevamo pensato e non in quella che ha avuto questo piccolo rifetto di esecuzione.